salve a tutti ragazzi oggi vi farò un unboxing del galaxy tab 2 colore bianco e l'ho acquistato con il 3g al costo di 299 euro come potete vedere include una sim vodafone con 5 euro di traffico cominciamo la nostra unboxing questo è un telefono un tablet con 8gb 1gb di cpu in gigahertz e sistema operativo android 4.0 bluetooth dvx hd gps e e dlna adesso lo apriamo andiamo si 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 ora apriamolo ora apriamolo questa è l'asilo vodafone ovviamente vabbè poi la spacchettiamo e questo è il nostro tablet come potete vedere qui ci sono tutte le caratteristiche il dispositivo presenta una fotocamera da 3 megabix qui c'è il supporto per la sim per la micro sd espandibile fino a 32 giga colore bianco è disponibile anche il 10 pollici al prezzo di 3,99 questi sono i vari accessori abbiamo il famoso la famosa spina quella normale con il caricabatterie con la porta usb poi abbiamo i vari manuali con la garanzia le cuffie con ovviamente le gommine inclusa nella confezione e infine abbiamo il cavetto USB per il caricabatterie non c'è più niente adesso proviamo il tablet ovviamente ovviamente non c'è la sim inserita vabbè la inseriamo un po' dopo ma non c'è… successivo benvenuto avvio lingua italiana avvia ovviamente ci dice scheda sim non trovata vabbè diciamo ignora qui ci trova le varie reti wireless l'isola ignora impostiamo la date ora oggi che ne abbiamo 34 dove ti passo ti ho imposto un po' l'ora vabbè qui ci sono il nome ok un po' l'ora un po' l'ora un po' l'ora andiamo avanti va bene diciamo per il momento non adesso andiamo avanti beh diciamo beh diciamo ignora nel frattempo poi dopo cambiamo andiamo avanti configurazione completata fine perfetto il tablet è pronto ovviamente ha il dispositivo di accelerometro come potete vedere è abbastanza fluido nei movimenti anche da qua ovviamente apriamo il nostro menu vediamo vabbè andiamo indietro come potete vedere facendo così io posso eliminare le varie schermate e tornare nella schermata dove voglio io andiamo ora sul menu